L'Europa non sta assolutamente facendo abbastanza, le risposte sono lente e inadeguate. Ieri c'è stato un discorso di Juncker, ha voluto un po' bearsi di aver trovato un accordo con i paesi dei Balcani occidentali e quelli comunque toccati dalla rotta balcanica per ulteriori 100.000 ridistribuzioni a fronte di 250.000 arrivi solamente in Croazia in meno di un mese. L'Unione Europea dovrebbe immediatamente rivedere il Trattato di Dublino, arrivare a una ridistribuzione permanente in base a criteri demografici ed economici tenendo conto quindi della capacità di assorbimento dei singoli paesi, dovrebbe arrivare anche a una gestione comune delle frontiere e a garantire sicurezza ma non a discapito di quei fondamentali diritti che sono riconosciuti dalla Convenzione internazionale ai rifugiati e a profughi di guerra ma aggiungo dovrebbe immediatamente rivedere anche le sue politiche estere e commerciali perché se non andiamo alla radice del problema che è lo sfruttamento selvaggio dell'Africa subsahariana, l'alimentazione di conflitti e divisioni etnici, tribali ed economici e la destabilizzazione sistematica del Nord Africa e del Medio Oriente Noi cureremo qualche conseguenza ma non sradicheremo la causa del problema non bisogna confondere quindi un'eventuale soluzione provvisoria con la soluzione definitiva che non può non passare dal cambiamento di queste politiche